Primo giorno di saldi, come va? Abbastanza bene, siamo molto fiduciosi e aspettiamo i nostri clienti con pazienza. Noi siamo sicuri che va avanti, la vita continua. Nonostante la crisi, gli acquisti? Sì, gli acquisti la gente compra le cose ponderate con una certa sicurezza, cioè vuole i prodotti di prima scelta. E quindi noi che siamo di vecchio stampo abbiamo i prodotti di qualità. Non dovremmo avere problemi.